ecco l'orto concluso adesso vedremo la padrona di casa che ci dirà solo un attimo mettiti in mezzo Annalisa detta Lisa prego gruppo in questo momento rituale vai dentro l'orto vai dentro l'orto Adesso ci racconti come chiamerai quest'orto che è collettivo quindi ti aiuteranno Andate pure dentro l'orto collettivo senza pensare i bancali se no verranno tagliate le manine Allora quest'orto collettivo come verrà chiamato? L'orto collettivo verrà chiamato Ventre Sacro Wow un applauso E adesso Applauso alla maestra Evviva